Ciao a tutte, eccomi ritornata con un altro video allora, sembro un mostro ma purtroppo sono io che ci posso fare? quindi perdonatemi un po' i capelli perché fa veramente caldo di nuovo sono solo le 10 del mattino e fa caldo quindi lasciate perdere allora, questo video volevo proporvi una sorta di video diversi ecco, spezzettare un po' i soliti video le solite cose anche se comunque nel prossimo video vi farò vedere ciò che ho preso sia io e mia mamma da Kiko ma ve lo mostro comunque nel prossimo video in questo video voglio che voi mi proponete sotto magari in questo video o dove volete voi comunque vi lascio tutti i vari miei social network dove io sono reperibile ovviamente dovrò riaprire twitter, cioè riaprire riutilizzare twitter perché è un po' che non lo utilizzavo dove volete voi vi lascio tutto quanto scritto qui sotto la mia email, dove volete voi o su direct su instagram, dove volete voi sapete che io rispondo quindi allora, proponetevi video un po' diversi non lo so, delle challenge qualsiasi cosa quello che voi volete io sarò ben felice di segnarmi tutto e di farvi tutti i video ecco ma inoltre volevo proporvi dei video che ho praticamente ci ho pensato ieri ecco siccome volevo diciamo raccontarvi non fare una sorta di draw my life perché io non sono capace a disegnare cioè fino a poco tempo fa quindi nell'antica preistoria sapevo riuscire magari a disegnare qualcosina cioè simile ecco solo che adesso è un po' che non disegno quindi non so cos'è cavolino viene fuori quindi non fare una sorta di draw my life ecco per questo motivo ma raccontarvi un po' volevo raccontare raccontarvi cioè non so parlare perché fa caldo fa caldo i capelli guardate come sono schifosi ma vabbè ma è normale raccontarvi un po' la mia esperienza scolastica quindi quello che ho studiato come mi sono trovata a scuola al liceo con i compagni con le varie cose cosa ho studiato se sto andando a scuola ancora tuttora non lo so una sorta di video un po' diversi dal solito ecco una sorta di video chiacchierecci però spezzettarli perché sennò diventano veramente di 30.000 minuti e veramente sarebbe una noia quindi se per voi va bene quindi pollice in su per questa idea che mi è venuta pollice in su per le vostre richieste pollice in su per qualsiasi cosa iscrivetevi al canale ai miei social network tutto 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 quindi oppure anche una sorta di video un po' giocare al 360 non lo so quello che volete voi quindi proponetevi tutto quello che vi viene in mente a voi ragazzi o ragazzi chi sia quindi questo video finisce qua perché vi volevo solo dire queste due cose quindi se vi va bene mi raccomando quello che vi ho detto se avete capito comunque vi lascio scritto tutto qui sotto nel box informazioni io adesso ragazzi vi saluto e ci vediamo al prossimo video un bacione ciao